Tour in Egitto. Alto Nilo. Il Dio dell'Amore. 14 aprile 2019. Vi saluto miei cari. Io sono Crayon del Servizio Magnetico. Questa canalizzazione è diversa. Farò venire diverse entità in questa stanza, proprio adesso. Se credete in questo genere di cose, c'è magia qui. Per quelli di voi che si sono appena sintonizzati con questa canalizzazione, siamo ancora in Egitto e questo è l'incontro di commiato numero 2. Circa il 10% del gruppo se ne va e il resto rimarrà per un tempo ulteriore su un'altra nave. Questa canalizzazione è diversa. L'entourage qui non è semplicemente l'entourage di Crayon, perché vi trovate in una terra che ha sviluppato pienamente l'energia della magia. Lasciate che vi spieghi. Voglio invitare in questa stanza l'amore della mitologia dell'Egitto, così che si è da su di voi nella sua grandiosità, mentre ne parlo, mentre la celebro, mentre informo riguardo a qualcosa di magnifico. C'è già chi non ci crede, chi sta ascoltando questa voce e dice. Questo è l'uomo sulla sedia che sta canalizzando. E dirà. Non sono interessato, sai. Dicono. Dio non funziona così. Davvero? Spiegatemi come funziona Dio. Dio è amore. La sorgente creatrice dell'universo è amore. Per 30 anni, anche prima che il mio partner pronunciasse mai una parola, c'era amore. Quando il mio partner ha iniziato questo, tutto questo, come ingegnere che lavorava nella realtà comune del pianeta, non era interessato alla canalizzazione, non gli interessava la parola magia. Lui racconta una storia, e gli ho chiesto di farlo di nuovo più tardi. E come vi dirà, l'unica cosa che lo convinse che tutto questo fosse reale non fu una voce dal cielo, non fu un roveto ardente, non fu nessuna di queste cose. Si sedette sulla sedia e fu sopraffatto e pianse perché avevo spinto dentro di lui l'amore di Dio. Lo spinsi dentro, in quel cuore lineare. L'ingegnere, quel nerd che lui era, non lo pote controllare e pianse. E lo fece di nuovo. Si sedette di nuovo sulla sedia e accadde la medesima cosa e si rese conto che non si può fingere, non si può simulare l'amore, non fino a quel punto. Non si può simulare l'amore di Dio, non è possibile. Voglio che questa stanza cominci a risuonare con un'energia che desidero creare, di verità e di fiducia, mentre vi informo riguardo a certe cose che non avete ancora udito. Come comunica Dio, miei cari? E la risposta è l'amore. Vi ho appena fatto un esempio. Quella fu una comunicazione che disse tutto, senza dire al mio partner il nome, come funziona, che cosa accadrà, che cosa dovrebbe fare e che cosa non dovrebbe, di che cosa dovrebbe aver paura e o meno. Niente di tutto questo accadde. Solo amore. E fu abbastanza, poiché la luce dell'amore lo inondò e lo protesse da tutto, tutto. Ed egli lo sapeva. E dunque il suo viaggio ebbe inizio, trent'anni fa, con l'amore. Molti di voi hanno un animale che amate e sapete esattamente che cosa sto per dire. L'animale non ha l'intelletto, oppure la coscienza, o il linguaggio e vi guarda e vi riversa amore. E voi lo sapete e lo percepite. C'è comunicazione, sì o no? Sì. Esiste una comunicazione. L'amore è comunicazione e in quell'energia multidimensionale si muove una moltitudine, una pletora, una biblioteca di comunicazione verso di voi, solo da un animale. Oppure da un neonato, che ancora non parla e che guarda negli occhi della madre e dice. Sono così felice di essere tornato sulla Terra. E lo potete vedere e lo potete sentire. Questa è comunicazione. Questo è amore. Questa è una comunicazione a due vie tra voi e la sorgente creatrice. Questa è magia. Mi sono seduto su questa sedia e vi ho dato una canalizzazione riguardo all'energia per prepararvi a questa canalizzazione. Ho trascorso mezz'ora a descrivervi l'energia multidimensionale come l'opposto dell'energia lineare. Non viene compresa e l'essere umano lineare la osserverà e dirà. Non mi interessa, non ci credo, non credo nella magia. Eppure andranno a casa dal loro animale e comunicheranno nello stesso modo. Crayon, perché la chiami magia? Oh, ci sto arrivando. Che cos'è la magia per voi? È una parola. Alcuni dicono, non ci credo per niente. Usa un'altra parola, Crayon. Ok, vi dirò una cosa. Siamo in Egitto e dunque parliamo della mitologia egizia. Parliamo di un nome di cui in realtà non avete sentito molto parlare. E potreste non udirlo, perché è l'antica mitologia egizia. E il nome è la sorgente creatrice dell'universo, il nome rappresenta la magia, il nome è l'essenza, l'origine, il fondamento di Amon Ra, di Horus. È il nome che è l'essenza di Ator e di Sekhmet e di Iside e di tutti loro insieme. È l'essenza della magia. Il nome che sto per dirvi, che non avete davvero udito prima, rappresenta protezione, guida e amore, perché è la sorgente creatrice, è magia. E il nome è Eccan. Eccan. Perché non lo si trova sui muri? È antecedente a tutti loro. Significa magia per gli egiziani che conoscono bene i nomi, anche per gli storici, ed è l'essenza di tutti loro messi insieme, di tutti gli dei messi insieme, perché è amore. E amore. Ne dubitate? Sto per mostrarvi, proprio adesso, la differenza tra la grandiosità e la saggezza e la raffinatezza degli antichi egizi e qualunque altro gruppo e cultura. Proprio ora. C'è una differenza. Eccan. La magia dell'amore e della guarigione e della protezione e della guida nella vita successiva. Che cosa vi è stato detto? Persino nella XIX dinastia, che cosa dice il faraone sui muri? Che cosa raffigura? L'aldilà è bellissimo. Nell'aldilà siete giovani. È la terra dei fiori e del miele e di belle giornate. Lo avete notato? È sui muri di più di 5.000 anni fa. Ora, solo come un esempio di involuzione, vi porterò in una chiesa in Europa, in cui potete vedere i dipinti sul muro che raffigurano l'orrore dell'inferno e bambini fatti a pezzi e un dio giudicante e orribile e desideroso di vendetta. Questo è oggi. Questo viene insegnato oggi. Vedete l'involuzione che accade rispetto a ciò che avete visto nei templi oggi? Vedete, Ramsesiri sarebbe andato da Ra e avrebbe sentito l'amore che Ra aveva per lui e per l'Egitto e si sarebbe voltato e lo avrebbe donato all'Egitto. Questo era ciò per cui era conosciuto. È scritto. Amore, amore e amore. Questo è raffinato, questo è diverso ed è corretto. Oh, ma non si ferma lì. Volete vedere quanto fossero all'avanguardia? Ogni essere umano possiede un altro se, lo avete udito? Dove lo avete udito in precedenza? Sui muri, raffigurato, ciascun essere umano possiede un altro se. È una bolla, la chiamano bolla. È così che la chiamerò e questo è ciò che viene insegnato oggi riguardo alla bellezza del sé superiore, che si trova in una bolla intorno a voi. Ho usato il termine bolla per trent'anni ed è un'idea antica, molto antica. È un nome e, se studiate le sillabe del nome, alcune di esse sono usate qui per la bolla. Che coincidenza! Merkaba è la bolla del sé superiore, che riempite di luce e, se la riempite correttamente con l'amore di Dio, e ve ne andate da questo luogo, quella è la vostra protezione da tutto, da qualunque cosa. In questa nuova energia su questo pianeta, potete stare in un cerchio e i demoni possono cantare intorno a voi e voi potete sorridere. Non possono toccarvi, perché avete la luce in quella bolla ed essi non possono andare da nessuna parte, a meno che non li invitiate a farlo. Questo c'è sui muri. La protezione dei templi in cui eravate oggi. L'amore è qui. Ora, voglio che vediate questo e che seguiate ciò che viene dopo, perché quello è l'Egitto originale, prima dei conquistatori, prima di ogni faraone straniero, prima di ogni altro sistema di credenze. Quello è l'Egitto che voglio che osserviate. Avevano capito che l'aldilà è bellissimo. Non è dove venite giudicati e torturati da un Dio che fa cose del genere. Se c'è un giudizio, proviene dagli esseri umani, non da Dio. E certamente è cambiato da dinastia a dinastia e i faraoni lo cambiavano a piacimento, ma, credetemi, l'essenza era la stessa, la magia era l'amore. Definirò la magia come quella sorgente multidimensionale che è amore, che comunica, che fa così tanto tra voi e la sorgente creatrice. Ecco che cos'è Eccan. Questa è la magia dell'antico Egitto. Voglio che osserviate che cos'è accaduto da lì. Osservate alcune delle altre culture nelle altre parti del Mediterraneo. Gli dèi non erano affatto dei dell'amore. Erano dei del potere, lo vedete? E anche questo è regredito. Dei del potere, che vi punivano. I greci, come ho detto prima, erano molto bravi nel rendere le proprie divinità disfunzionali. Questa è involuzione. Dall'essenza dell'amore e la sorgente è la bellezza del bagno di amore attraverso l'Egitto, alla raffigurazione del Nilo e della bellezza di un'idea, che il faraone e i sacerdoti conoscono, perché è il Dio dell'amore, che benedice la terra, che vi guida in una di là che è pieno di gioia e di luce solare e di gioventù. Sono tutte metafore, miei cari, per l'anima che viaggia in quella bolla, che un giorno vedrà l'altro lato del velo. E, quando arrivate lì, è bellissimo, miei cari, proprio come sui muri del Tempio. È metaforico, sì. Comprendete il principio. Esorto chiunque stia ascoltando, che chiama se stesso New Age, a diventare più pratico di quanto sia mai stato prima. Studiate gli orbs, se volete. Studiate gli extraterrestri, se lo desiderate, ma alla fine del giorno rendete tutto questo pratico. In modo che, quelli che si trovano con voi, vi ammiranno per chi siete e non per la bizzarria che mostrate. Capite che cosa sto dicendo? È tempo che prendiate l'amore che sapete essere lì e dimostrarlo, con i quattro pilastri che vi ho dato prima. Con la gentilezza e la compassione e la pazienza e la forza. Non con cose strane. Oh, ci sono cose strane, perché c'è la magia nel bosco e ci sono gli elementali e ci sono energie che state appena iniziando studiare adesso, che sono singolari per voi e che alla fine saranno misurabili. Sono parte di ciò che siete. Ma, alla fine del giorno, mostrate a qualcuno la vostra maturità e il vostro equilibrio, come le cose che sono scritte sui muri del Tempio, che potreste aver visto oggi. Se lo analizzate con la logica non funzionerà. Inizierete a usare la linearità e direte. Hanno dei muri dipinti e questo è quello. Miei cari, questo è l'umanismo della dualità, questa è l'oscurità e la luce. Voi ce l'avete ed essi l'avevano, ma avevano anche un'idea che Dio è amore e in questo c'è comunicazione. Se voi foste la sorgente creatrice e metteste le anime negli esseri umani, la rendereste una strada a senso unico? Direste. Vi do la vostra anima dall'altro lato del velo, in questo essere umano. Ora vi auguro buona vita e potete pregare, io non vi risponderò. Ma potete pregare. Lo fareste ai vostri figli? Beh, siete cresciuti, vi lascerò andare, ma non chiamatemi perché non vi risponderò. Io sono a posto. E la risposta è, no, non lo fareste, per via dell'amore e la sorgente creatrice vi ama, conosce il vostro nome. E qualcuno potrebbe dire, va bene, va bene, ma se c'è comunicazione in entrambe le direzioni. E io credo che ci sia. Perché non posso udire Dio? E la risposta è, perché Dio non è un essere umano. Dio non vi darà un tipo di comunicazione umana. Vi ho detto ripetutamente che quella comunicazione arriva nelle cose che l'amore fa ed è e diventa e sviluppa. Vi ho già detto. Quale lingua parla il vostro animale domestico? Eppure lo sa, non è vero? È una strada a doppio senso, miei cari, e l'amore è magia e crea cose di cui vi ho parlato, come la sincronicità nella vostra vita, il ringiovanimento nel vostro corpo. Questo è amore, ed è così che funziona. Trovarsi nel posto giusto al momento giusto. Alcuni di voi hanno visto questa crociera e sono dovuti venire e magari finora non sapevate che cos'è che vi ha fatto dire vado. Ora potreste saperlo. L'entourage è seduto qui a guardarvi e dice. La mia mano è tesa, che ne pensi? Alcuni di voi si sono sentiti a disagio per giorni, alcuni di voi sono stati male per giorni. Benvenuti nell'amore. Vi spinge contro la vostra oscurità e della vostra coscienza, o di ciò che vi aspettate, o di ciò che pensate che sia giusto o sbagliato e vi attraversa in un modo che vi mette a disagio, non vi afferra e vi dice. Guardami, ti amo. Lascia andare tutte quelle resistenze. È sui muri del tempio. Ecco che cos'avevano gli egizi, ecco l'eleganza. Avevano un dio dell'amore, comprendevano la magia. Chiedete ad un antico egizio, sono in questa stanza, riguardo alla magia e diranno. Certamente c'è la magia, la usiamo sempre per la guarigione. Vi diranno. Certamente c'è questo, certamente c'è quest'altro, e alzeranno gli occhi al cielo quando dite. Davvero? Siamo nel 2019, non ci crediamo. E vi guarderanno e diranno. Bene, siamo molto contenti di essere qui, e non con voi. Potrebbero persino chiamarvi pagani. Oh, oh, questo è divertente. Avevano delle idee bellissime. La dualità funziona con il libero arbitrio e si è involuta in tutto il resto. Lo avete visto nella storia. Ma voglio mostrarvi la terra in cui vi trovate, che è diversa da quanto pensaste. Non solo la storia e i nomi, ma guardate l'amore scritto sui muri. Appaiono tutti giovani, non è vero? Perché questo è ciò che si aspettavano che quel dio dell'amore avrebbe dato loro dall'altro lato del velo. Ogni singola raffigurazione del faraone, oppure dei sacerdoti, o delle sue mogli, ha la stessa età. Lo avete notato che sono tutti giovani e bellissimi? Perché è così che appaiono, perché stanno semplicemente transitando, e così farete voi. Lo avevano capito perfettamente. Stanno semplicemente transitando sulla via verso qualcosa di grandioso e bellissimo, proprio come voi, quando tornate alla luce. Questo è il messaggio sui muri del Tempio, perché lo interpretiate e lo vediate. Nelle spaccature della storia che vi è stata raccontata e nei nomi che sono lì c'è la magia. C'è dell'altro, ma per ora è abbastanza. L'entourage che si trova qui è pieno di membri dell'entourage di Crayon e di quelli dell'antico Egitto, che stanno ammiccando e dicendo. Vai avanti fratello. Hai capito bene. Spero che tutto questo vi faccia vedere le cose in modo anche solo un po' diverso. Potete vedere il momento cruciale nella storia, mentre ascoltate i conquistatori e gli stranieri cambiare tutto solo un poco, finché alla fine hanno voluto cancellare tutto, distruggere i volti che credevano nell'amore e volgersi a un Dio del potere e della punizione. Andate via da questo luogo con una verità, che magari è diversa da quello che pensavate, e onorate questo posto e gli antichi e la conservazione di quel messaggio, perché è davvero buono. È buono. E mentre siete qui, possiate bere dal Nilo. Una metafora della bellezza e della vita dell'antico Egitto. E così è.